Investimento mortale alla stazione di Fano poco prima delle 13 di quest'oggi. Un uomo sulla cinquantina corpulento alla passaggio del Frecciabianca 8816 Lecce-Venezia sul secondo binario, secondo alcuni testimoni oculari presenti sulla banchina, quando il treno è stato all'altezza delle salette d'attesa, avrebbe fatto uno scatto in avanti parandosi davanti al locomotore. Uno schianto terribile che ha ucciso sul colpo il cinquantenne, considerata anche l'alta velocità del treno, che non doveva fermare nella stazione di Fano, ma era atteso a Pesaro per le 12.53. Nell'urto la parte frontale del Frecciabianca, che ha impattato con il corpo dell'uomo, si è staccata volando a terra lungo la banchina. Dopodiché il treno ha effettuato una lunga fermata di emergenza, che è terminata 500 metri dopo, poco prima del sottopassaggio del Lido, con ancora il corpo del malcapitato incastrato nella parte frontale della motrice. Dalle 13.15 quindi la linea ferroviaria adriatica praticamente è stata tagliata in due, mentre alla stazione di Fano venivano effettuati i primi rilievi da parte dei medici legali, mentre il treno restava fermo sul binario in attesa di un secondo treno, proveniente da Rimini, per il trasbordo dei passeggeri dal treno investitore, per poter proseguire nel viaggio. Poco dopo alle 17.00 è arrivato il nulla ossa dalle ferrovie per l'Italia per il trasbordo dei passeggeri, avvenuto uno ad uno attraverso una passerella tra i due convogli, dopo che il Frecciabianca 8809 è stato reso libero nella stazione di Pesero. Ma per i viaggiatori della linea adriatica è stato un vero calvario. Treni fermi a Falconara e Pesero con migliaia e migliaia di passeggeri con scarne informazioni e nessuna certezza sui tempi di riavvio della linea.